Il discorso è triste e vuoto, spero fosse stanco e non che queste siano le idee per i prossimi sei mesi in Europa altrimenti è un dramma perché dei temi caldi, lavoro, banche, agricoltura, turismo, commercio, pesca, i mutui della vita vera non ne ho sentita, sull'immigrazione ha detto poco e in maniera confusa ha chiesto che l'Europa faccia qualcosa ma l'Europa se ne strafrega quindi è lui che si deve svegliare e sospendere Mare Nostrum e poi ha parlato in filosofia dell'Iliade, dell'Odissea, di Ulisse, di Telemaco, di Dante Alighieri, del Rinascimento affascinante, ho fatto liceo classico, adoro anche io quel periodo la gente mi chiede lavoro, non mi chiede di Ulisse Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella basca è di destra, fare la docce invece di sinistra Un pacchetto di malborro è di destra, di contrabbando è di sinistra Ma cos'è la destra? Il proscenio se l'è preso lo scontro con Manfred Weber, presidente del gruppo popolare, più bavarese che tedesco Mitragliando ad alzo zero l'Italia, Weber ha dato l'impressione di voler soprattutto rassicurare l'ala dura del suo gruppo e del suo partito Forse anche per dire ad Angela Merkel e a Jean-Claude Juncker che lo zoccolo duro del PPE deve restare nordico e pro austerity, senza cedimenti alle cicale mediterranee Un attacco a cui, nelle conclusioni, Renzi ha risposto a muso duro Se invece, caro presidente, il capogruppo Weber parlava a nome della Germania Vorrei segnalare a lei che conosce molto meglio di me per la sua esperienza e per la sua appartenenza che proprio in questa sala, durante la scorsa presidenza dell'Italia alla guida del semestre europeo ci fu un paese a cui non fu concessa la flessibilità fu concesso di violare i limiti Quel paese era la Germania, con il processo di riforme che ha consentito alla Germania oggi di essere un paese che cresce Tuttavia, come era prevedibile, il dibattito di Strasburgo è stato caratterizzato da una forte presenza di oratori italiani Detrattori e sostenitori di Matteo Renzi si sono confrontati in modo franco ma pacato con il solo Borghezio a scrivere l'ennesimo episodio di folclore quando dà al premier del pagliaccio e si becca il severo rabbuffo di Tagliani Sul versante opposto, l'intervento di Gianni Pittella all'esordio come presidente del gruppo S&D Il parlamentare Lucano elogia il discorso e risponde senza mezzi termini al suo dilimpettaio popolare Prioritario perché non esiste libertà se non c'è la libertà dal bisogno E questa è una condizione prioritaria che noi poniamo Non vogliamo scassare i conti pubblici, collega Weber Non siamo gli sfasciacarrozza delle finanze pubbliche Ma non possiamo nemmeno accettare che si sfasci la società, la umanità che noi rappresentiamo Le persone in carne ed ossa, non i numeri Dobbiamo aggiustare i numeri ma dobbiamo aggiustare la vita delle persone Intanto Alessandra Mussolini lamenta il silenzio sui marò e non sarà da sola Io quello che credo è che cominciamo a far tornare i nostri marò in Italia Questo è stato detto anche nell'intervento sia di Salvini che della Gardini Nel semestre europeo si può fare E poi dare maggiore liquidità alle imprese italiane Cioè noi dobbiamo parlare di prendere soldi dall'Europa e portarli in Italia E fare di tutto Su questo noi daremo un contributo Su altre cose no, francamente Perché sentire parlare di Barroso Del problema dell'immigrazione che è soprattutto un nostro problema Come se fosse una cosa normale È incredibile Cioè lui dice daremo un contributo E come lo dai questo contributo? Se non lo diamo da qui dove lo diamo? In aula il capodelegazione del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao In impeccabile grisaglia impreziosita da Converse Rosse Richiama l'esigenza di una Europa sociale Noi vogliamo cambiare Noi vogliamo un'Europa diversa Un'Europa diversa innanzitutto nella tipologia di trattati Di accordi Di linea politica Abbiamo sentito parlare con fervore di trattati come il fiscal compact Ma mai in queste istituzioni si è parlato di social compact O di una qualche misura sociale di riequilibrio Materia che a voi evidentemente non interessa Vi abbiamo visto entusiasti nell'azionare il meccanismo europeo di stabilità Ma non abbiamo mai visto nessun entusiasmo Nell'ipotizzare un meccanismo europeo di stabilità sociale In cui si predilige reddito, lavoro e dignità dei cittadini Critica anche Barbara Spinelli della sinistra confederale Che richiama ricette keynesiane Occorre un new deal europeo Una svolta alla Delors O meglio ancora alla Roosevelt Non fittizie esenzioni negoziate tra stati forti e deboli Occorre un'unione con risorse proprie adeguate Perché il new deal dia lavoro ai milioni che l'hanno perso Può essere finanziato dalla Banca europea degli investimenti Dalla tassa sulle transazioni finanziarie Dalla carbon tax Due tasse che predispongono a uno sviluppo ecologico Investire nelle infrastrutture Nelle energie rinnovabili Nella ricerca Ecco il compito Ne va trascurata la proposta di una conferenza sul debito Simile a quella che nel 1953 Condonò parte, gran parte dei debiti di guerra della Germania E le permise di rinascere Niente sconti al Premier Nemmeno nel garbato intervento di Elisabetta Gardini Capodelegazione di Forza Italia Io mi preoccupo per quello che lei non ha detto Che probabilmente è in quel documento scritto che ha depositato Ma forse se lei avesse accennato a qualcosa di concreto Avremmo capito questi bellissimi valori Come li intendeva incarnare e tradurre in azioni politiche Perché io credo che qui noi abbiamo questa responsabilità Che lei ci ha ricordato Di riportare la fiducia all'Europa Ma lei oggi ha la responsabilità più grande Di aprire i primi mesi di una legislatura Che non può essere di routine Ma che deve essere di cambiamento Decisamente più morbidi i toni di Giovanni Davia Del nuovo centrodestra Che ricorda il dramma dell'immigrazione Da siciliano non posso che ricordarmi Di quello che avviene sulle nostre coste È chiaro che la politica dell'immigrazione Deve essere una priorità della Presidenza E ci auspichiamo Che con la collaborazione di tutti gli altri Paesi Che non possono rimanere insensibili Nel corso del semestre di Presidenza italiana Si possa arrivare a risultati nuovi Visibili e concreti Perché questa mattanza che avviene Sulle coste della Sicilia Non può avere più seguito Fuori dall'emiciclo Raffaele Fitto di Forza Italia Chiarisce l'atteggiamento del suo partito Durante il semestre della Presidenza italiana Serio, responsabile, concreto Ma rigido sulle proposte di merito Penso che sia importante Sottolineare il fatto che ci sia Una inadeguatezza rispetto All'esoluzione dei problemi Il nostro Paese non cresce Le previsioni del documento Di economia e finanza del Governo Che davano lo 0,8% di crescita Sono state rimodulate al ribasso Dall'Ox e dall'Istat Il primo trimestre ci dà un meno 0,1% Quindi esattamente l'opposto Abbiamo una pressione fiscale che aumenta Quindi la preoccupazione per quanto ci riguarda Se sommata ai dati occupazionali È veramente importante E non può che sottolineare il fatto Che ha un ragionamento rotondo e formale Con, come dicevo prima Dotte citazioni Sostanzialmente manca poi Il merito delle questioni Sulle quali si prova a buttare la palla lunga Ma i nodi verranno al pettine Di tutt'altro tenore, come è ovvio Il parere di Pina Picierno Eurodeputata del PD È un discorso assolutamente politico Che pone al centro il vero obiettivo Della nostra generazione Di quella che sta definita la generazione telemaco E cioè ritrovare l'anima dell'Europa Quindi per la prima volta Dopo tanti discorsi In cui abbiamo ascoltato tanto E anche troppo vorrei dire Di economia, di tecnicismi Si ritorna all'essenza della politica La necessità cioè di ridare un'anima A quest'Europa E di volerla quindi sostanzialmente diversa Da quella che abbiamo conosciuto in questi anni Se noi siamo telemaco I proci chi sono? Quelli che probabilmente impediscono All'Europa di essere quello che deve essere Quella che deve diventare Quello che è stato in passato Perché l'Europa è stata Insomma in passato ha avuto Un ruolo centrale Lo ha perso Cito anche Quarenzi Il famoso selfie A cui si faceva riferimento Verrebbe fuori Lui ha detto appunto Un'Europa annoiata Un'Europa che non svolge pienamente Il suo ruolo Quindi da qui bisogna ripartire Dalla consapevolezza del ruolo Che possiamo esercitare nel mondo Siccome chi di selfie ferisce Di selfie perisce Il copresidente del gruppo Dell'Europa della libertà e della democrazia Il pentastellato David Borrelli Lo usa per dar prova Che l'umorismo non appartiene In esclusiva a Renzi Mi è molto piaciuta L'idea che lei ha dato Del selfie Di quest'Europa Che fotografa a se stessa Io vorrei che lei Faccesse questa fotografia Però mi dispiacerebbe Se poi Si sorprendesse Se anziché trovare Un'immagine di noia Lei trovasse La faccia di Juncker Con dietro la faccia della Merkel Che le fa ciao ciao Grazie